Potevo restare benissimo nella bottega di famiglia, ma l'ambizione mi fotte. La voglia di fare, la voglia di superarmi, la voglia di dare una grande svolta mi sta facendo fare il passo. Ho tanto a cuore la mia terra e voglio fare qualcosa per essa. Voglio sfruttare tutte le mie capacità, la mia inventiva e il profondo senso del dovere che mi caratterizza. Questo primo progetto sarà solo l'inizio, la radice di tanti e tanti altri. Nella vita non si finisce mai di scoprirsi e io ho scoperto di essere una sorta di dinamo, più faccio e più mi carico. Quindi ho costantemente bisogno di fare, correre ed inventare. Forse non mi basteranno quattro vite per realizzare tutto quello che ho in mente. Quindi devo concentrare tutto in una. Non c'è tempo da perdere. Ho soltanto 26 anni, quanto devo imparare ancora, quanto devo migliorare, quante sfide e problemi devo affrontare. Ma il coraggio non mi manca. Nella vita ognuno sceglie la sua condanna ed io penso di aver scelto già la mia. In questa vita siamo solo di passaggio, quindi bisogna comportarsi sempre bene e lasciare un segno, un ricordo, un esempio. La vita ognuno sceglie la sua condanna ed io penso di essere una. Grazie a tutti.